buon pomeriggio a tutti ragazzi vedete che il tempo è brutto ma nessuno mi impedirà di andare al cinema neanche un tempo orribile con demoralio la pioggia la prima c'è stato anche se non ce n'è ha piovuto un po è la stessa cosa ora al contrario l'etna piove molto forte non nevica più in questo periodo che siamo estate ora qua come clima è tipo autunnale però come stagione siamo estate il clima si è sballato e perciò ci vediamo dopo per farvi vedere lì che vado al cinema buona visione del video mi finisci raga il film è finito ovviamente guardate qui c'è il bicchiere tre personaggi abbiamo adesso vado a vedermi un po gli animali quindi etna polis ragazzi ho finito di guardare tutte le cose tutto il resto spero che il video vi sia piaciuto scrivete a canale se vi è piaciuto il video anche se vi piace potete iscrivervi lo stesso e iscrivetevi su instagram scusate se non ho fatto tanti video ma già troppo caldo e poi il telefono si surriscalda perciò non lo posso utilizzare sempre fin quando non si sistemi caldo non farò sempre un brevito ogni volta e perciò ci vediamo in prossimi video oppure domani ciao raga ciao